Uberti è un'azienda veneta specializzata nell'offrire materie prime e si differenzia per la qualità di quest'ultime. C'è una referenza in particolare che illustrate qui a Craft Beer Italy? Sì, qui a Craft Beer Italy presentiamo il nuovo malto altino, che è un malto Pelel, derivato da orzo coltivato in Italia, come il malto della Clea, il Pilsner, che ormai conoscono tutti. Però questa volta abbiamo deciso di produrre un malto Pelel, quindi sempre un malto base, con caratteristiche sempre come l'era Clea, quindi di un importante sapore di cereale, un importante sapore di crosta di pane, che può andare bene per tutte quelle birre in stile belga, in stile inglese, dove si voglia avere un buon risultato con un malto, tra l'altro, italiano.